qualcosa non va nella mercanzia come perché non mi hai disegnato troppo logora come dice a Ilaria logora sciupata rovinata dimmi te la cavi bene a corteggiare le donne perché la tua tattica va un po rivista tu eri perfetta un tempo tutti noi veniamo al mondo perfetti ma pian piano la perfezione si logora sono in colpi di martello a renderci opere d'arte hai idea di cosa dici e di quanto suona strano hai lavorato per quasi tutta la vita come domestica scusa come ai calli alle mani grasso di candela tra i capelli riesco a vedere tutto quindi in pratica non sono abbastanza bella per un ritratto no non è quello che ho detto però è quello che pensa no 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 tu c'è una qualità che è molto difficile da definire tutto qui troppo tardi